E' una settimana ad alta tensione quella che si è aperta con l'allenamento di ieri pomeriggio al Partenio Lombardi. Una settimana decisiva per la panchina di Mimbo Toscano, che in caso di risultato negativo contro lo Spezia rischia seriamente l'esonero per la buona pace del triennale siglato in estate. Sarà anche per questo motivo che, insieme alla società, ha deciso di chiudere i cancelli al pubblico. La scelta, tuttavia, ha anche un fondamento tattico. Alla luce delle defezioni di Castaldo e Ardemagni, ma anche del dubbio legato alla presenza di Moculu sabato prossimo contro i Liguri, nella mente dell'allenatore calabrese sta balenando l'ipotesi di cambiare anche per l'ennesima volta il modulo. Dopo il 3-4-3, varato solo a Bassano, il 3-5-2 d'inizio stagione e il 4-4-2 di Perugia, sarà la volta del 4-3-3, un sistema di gioco certamente più adatto ai tanti esterni rosa e soprattutto attualmente disponibili. Parliamo di Verde, Belloni, Kamara e Bidawi, che da ieri ha ripreso a correre in gruppo. Tra loro, dovesse non farcela a Mokuru, bisognerà necessariamente individuare chi dovrà travestirsi da prima punta. Una sorta di falso 9, per intenderci. L'indiziato principale è Kamara, che al Curi, per la verità, si è perso tra le maglie bianco-rosse al pari del resto della squadra. Insomma, le premesse per sperare in un immediato riscatto non sono delle migliori, ma contro lo Spezia, prima ancora degli uomini da mandare in campo e del modulo da adottare, ci sarà bisogno di una squadra che provi a gettare il cuore, oltre i limiti tecnico-tattici che ha fin qui dimostrato di avere.